quotidiana sulle strade, l'Italia della Cronaca si lascia alle spalle l'Italia del CSM, lo scandalo delle procure nel Consiglio Superiore della Magistratura i fatti di Cronaca Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano chiedono scusa dal carcere dopo una condanna in primo grado a 16 anni Manuel non molla e sogna un giorno di tornare a camminare la capitale sembra senza controllo inondata da un fiume di cocaina agognata da due giovani turisti che il 26 luglio uccidono nel quartiere Prati il vice brigadiere dei carabinieri Mario Cercello Rega Finnegar Elder Lee durante una colluttazione infila 13 volte una lama da Marins nel corpo del militare una storia dai contorni ancora foschi in mezzo un borsello rubato da uno spacciatore una missione dei carabinieri disarmati per recuperarlo un altro processo che si aprirà contro due militari per abuso di autorità in caserma una storia di droga anche abusi anche dei poliziotti contro gli americani un buon atleta Luca Sacchi ucciso con un colpo di pistola alla testa da un altro piccolo spacciatore Valerio Del Grosso che insieme a Paolo Pirino è in trattativa con Giovanni Princi amico della vittima per una grossa partita di erba protagonista dal ruolo sempre più misterioso la fidanzata di Luca Anastasia che aveva raccontato di uno scippo finito male perché Luca ci sarà sempre con noi piccola ma la vita romana senza controllo mentre la Cassazione il giorno prima il 22 ottobre aveva sentenziato che quella di Buzzi e Carminati dopo anni di processi e ricostruzioni non era mafia nella capitale dove però si riconosce definitivamente l'associazione mafiosa per il clan Spada il 13 novembre e ancora prima il 30 aprile per la famiglia Casa Monica ancora tribunali nella capitale dieci anni dopo la prima verità sulla morte di Stefano Cucchi il 14 novembre la corte d'assise d'appello condanna 4 dei 5 carabinieri imputati 12 anni ad Alessandro Di Bernardo per omicidio preterintenzionale resta l'immagine di una battaglia coraggiosa riconosciuta dopo la sentenza da un bacio a mano TOG che combattono per la verità TOG e colleghi che brigano oscuramente per indirizzare il CSM e le sue nomine per condizionare le procure d'Italia il 2019 è anche l'anno dello scandalo Palamara il ruolo delle correnti e la difficile autonomia della politica mentre il 30 luglio se n'era andato Francesco Saveri e anche ancora la Cassazione ha fatto una denuncia nel 2019 contro un abuso a missione d'ufficio per dei procedimenti Cassazione tutti d'accordo per fare il piano della P2 nuovo P2 di Coselli per fare la dittatura contro i cittadini votiamo no alla dittatura contro i cittadini con il piano della P2 una vergogna la demolizione pronta in Genova si poteva ricostruire l'hanno abbattuto e lo stanno ricostruendo con anche incidenti e lesione grave degli abitanti con anche un'azienda della Camorra implicata nell'abbattimento 4 feriti anche lo spaventoso incidente nel canale della Giudecca un gigante da 65.000 tonnellate di stazza la MSC opera con un motore in avaria che si scontra contro un battello turistico Venezia simbolo della bellezza fragile non tutelata del nostro paese paese in cui migliaia di uomini indivisa ogni giorno svolgono il loro fedele compito in questura a Trieste il 4 ottobre due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menevo vengono uccisi da un cittadino dominicano per un disagio psichico un mese dopo in una cascina di Quarniento in provincia di Alessandria travolto da un'esplosione causata dal proprietario che voleva truffare l'assicurazione tutti fatti tutte cronache per il dissesto della giustizia in Italia per la nuova con anche le stragi di Piazza Fontana con ancora il piano della P2 che è stato realizzato da Di Maio, Zingaretti, Salvini e la nuova P2 per la diminuzione dei parlamentari tutte queste vicissitudini in funzione della dittatura contro i cittadini nuova P2 Licio Gelli Di Maio Patuanelli Salvini e Di Maio tutti d'accordo votiamo un'ora al nuovo fascismo per la nuova P2 Grazie.